Se ci pensi, nel mondo ogni persona è diversa l'una dall'altra, e molte di queste, hanno caratteristiche davvero uniche. Rimarrai stupito nel scoprire che esistono persone così incredibili, da non sembrare vere. Queste sono 5 donne incredibili, che esistono davvero. Sei pronto? Iniziamo. Numero 5. La modella più alta del mondo. Amazon Eve, è una modella transgender e un'istruttrice di fitness, ed è conosciuta per essere la modella più alta del mondo. Questa modella, alle prese con la sua crescita anomala, non riusciva ad accettare la sua particolare condizione, ma alla fine ha imparato a farlo, ed ora adotta uno stile di vita adatto alle sue dimensioni. Numero 4. La donna più piccola del mondo. E ora la volta della donna più piccola del mondo. La 24enne Jotie McGee, è un'attrice indiana che entra di diritto nel libro dei Guinness World Record per essere la donna più piccola del mondo. È alta solo 27 centimetri, e per questo molte persone credono che si tratti di una bambina. Questa minuscola donna, soffre di una rara forma di nanismo. Ama molto la moda, e tante altre cose che amano le ragazze della sua età. I vestiti e i gioielli che indossa, sono realizzati tutti su misura. Numero 3. Amy Mullins. Amy Mullins, donna 41enne della Pennsylvania. È un'atleta, attrice e modella americana che ha perso entrambi gli arti inferiori alla nascita, a causa di una deformazione, ma questo non le ha impedito di realizzare i suoi sogni. Nel corso della sua vita ha eccelso in diversi campi, dal softball, allo sci, fino all'atletica leggera. È stata persino nominata dalla rivista Sport Illustred come una delle ragazze sportive più cool di sempre. Ha anche lavorato come modella per stilisti famosi, recitato in ben 13 film, e ha partecipato a 9 programmi tv. Incredibile. Numero 2. La donna con la lingua più lunga del mondo. Se ti piacciono i Guinness, sicuramente ti sarai imbattuto in questa bizzarra donna. Chanel Tupper, è una donna di Houston, ed è conosciuta per una sua peculiarità. Ha la lingua più lunga del mondo. La sua lingua si estende fino a 10 cm di lunghezza, per capirci, la dimensione di uno smartphone. Tutto cominciò quando pubblicò il video della sua lingua, che divenne subito virale. La donna afferma che è sempre stata una persona molto estroversa, ma che la sua lingua l'ha condizionata moltissimo. Almeno fino a prima della pubblicazione del video. Numero 1. La donna Barbie. Le bambole imitano la vita, ma a volte, anche le persone imitano le bambole. Valeria Lyukanova, vive in Ucraina, e il suo aspetto è molto simile a quello di una Barbie. La donna afferma di essere nata così, tuttavia, il suo girovita e le sue impeccabili caratteristiche facciali, fanno pensare a tutt'altro. Ironia della sorte, lei odia che il suo aspetto venga paragonato a quello di una Barbie. Vai a capire le donne. Bene, queste erano le 5 donne incredibili che esistono davvero. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividi con gli amici. E non dimenticarti di iscriverti al canale, per non perdere nessun nuovo video. Ciao curiosone, a domani.